Alla maniera, il prossimo brano è l'omestiere di Stanzia, io ho potuto stare a caserma e ho toccato il mio figlio per il punto del genere. Però il pollo, quando io passo è pompa acquaio, e direi dalle luci è pompa acquaio. Facciamo una prova. È pompa acquaio, è pompa acquaio. Facciamo meglio, in su, a posto. Possiamo andare. È pompa acquaio, è pompa acquaio, è pompa acquaio, è pompa acquaio, non lo voglio sapere mai, sapere mai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.